Intervenuto ai microfoni di Radio 6, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha toccato diversi temi, dalla stagione, alla situazione di Luis Alberto, di seguito le sue parole. Questo è un momento particolare, mancano due partite e dobbiamo cercare di fare il massimo. Prendere ancora punti significa fare qualcosa di importante per il futuro, in vista anche per il futuro. Non saranno due partite facili, l'Inter festeggerà lo scudetto, il sassuolo è in bilico, quindi a un certo punto della stagione le partite si equilibrano, chi ha più birra nelle gambe avrà la meglio e il singolo episodio fa la differenza. La stagione è stata particolare, non vogliamo prendere in giro nessuno, siamo partito con il piede sbagliato e recuperare dei punti non è facile. Siamo riusciti, però, a tenere botta. La situazione è molto semplice, io sono un uomo del popolo, vengo dalla strada, non amo le luci della ribalta e fare salotti o prendere in giro nessuno. Quando lo Tito mi ha comunicato di occuparmi anche della prima squadra ad agosto ho detto al presidente che doveva essere chiara una cosa, quello di istituire un metodo. La Lazio si deve riprendere la sua centralità, non ci deve essere spazio per personalismi, egocentrismi e quant'altro. Luis Alberto è un giocatore importante, ha un contratto con la Lazio. Ho sempre detto che a fine campionato avremmo preso in considerazione le eventuali richieste e la società penserà al meglio della società, non del singolo calciatore. Noi siamo al servizio della società e della gente, dei tifosi, personalmente non tollero chi prova a soggiogare le persone che girano intorno a una squadra di calcio. Lui ha espresso la sua volontà, la prenderemo in considerazione e se non l'ede alla società accetteremo, altrimenti prenderemo al vaglio le altre ipotesi. Questo vale per tutti.